Giovani e tecnologici. Lui ha portato, credo, questa grande innovazione nel nostro gruppo. Noi siamo oggi un'azienda profondamente digitale e lo dobbiamo al nostro fondatore. E questo è il modo migliore per ricordarlo, celebrarlo e seguire la sua indicazione e la sua linea in vita. Grazie. Ma si è scritto che del Vecchio ha dovuto portare il SILIZ anche a Milano, era uno dei suoi sogni del Consiglio. Ma c'è sempre un'opportunità che esiste, per ora non è nei piani del Consiglio. Dai che andiamo. Grazie a tutti.